buongiorno praticamente non riesco a smontare la tenda sta piovendo e sta tirando un forte vento il meteo non è clemente neanche oggi passato un giorno di pioggia tre giorni di vento compreso questo non so come sono riuscito a smontare tutta la tenda ho messo tutto apposto il tempo è veramente improponibile ha fatto una cosa a scrofisciare l'acqua, ha piovuto, continuerà a piovere adesso non sta piovendo quindi cerco di approfittarne ma comunque c'è il vetto questa mattina nel frattempo che attendevo la fine della pioggia ho trovato e prenotato un B&B al centro di Trapani quindi oggi nonostante il mal tempo devo assolutamente raggiungere tale destinazione ora è un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso ho preso comunque una parallela. MENCHIA CHE TEMPO! MENCHIA! Ho provato a tornare sul lungomare, ma è introponibile. Però ero sulla parallela, che è un po' più coperta. A Marsala sono! MENCHIA CHE TEMPO! 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 Lì in fondo ci sono delle isole sarà l'isola di Favignana o quella o questa non lo so poi ce ne sono altre ovario Sono esausto Questo tempo mi ha sopraffatto Lo sono fermato e sto uscendo sola Quattro chilometri e mezzo a Trapani Sì Ho trovato una struttura veramente molto carina Ad un prezzo veramente onesto E adesso vado a vedere un po' Trapani Sì 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 grazie a tutti grazie a tutti